Sì, è stata una bella esperienza, come diceva qualcuno, ha saldato i rapporti fra di noi, fra i compagni che si conoscevano meno, c'è stata la possibilità di poter, come dire, conoscersi meglio e saldare anche i rapporti. Ovviamente non è solo questo, anche perché a un certo punto del video, del filmato, c'era una parte che francamente non mi è piaciuta, che è stata quella, sembrava quasi che gli operai si piangessero addosso, nel senso che io sono un poveraccio, sono in cassa integrazione, guadagno 700 euro al mese, quindi quella parte lì mi ha, come dire, è stata, questa è una mia opinione, nel senso che l'ho trovata, come dire, un pochino discutibile da un certo punto di vista. Quindi io ritengo che al di là, diciamo, dell'aspetto, se vogliamo, di confronto che c'è stato fra di noi e le cose che dicevo prima, io credo che noi faremmo un errore se non facessimo un'autocritica rispetto a questo presidio, nel senso che se noi all'esaltazione, se vogliamo, detta così, proprio con un termine non appropriato, non accompagnassimo e non facessimo, diciamo, un'autocritica, perché comunque gli operai non c'erano. Quindi io credo che da questo punto di vista dovremmo interrogarci, perché noi abbiamo messo sull'impegno possibile, abbiamo cercato di portare avanti questo presidio nel migliore dei modi, però sicuramente, sicuramente io credo che questa cosa diventerebbe più costruttiva se noi, e anche, diventerebbe anche da un punto di vista di crescita di tutti i compagni, maggiore, se noi facessimo un'autocritica, perché comunque gli operai non si sono avvicinati a questo presidio, perché bisogna essere almeno onesti tra di noi, nel senso che è stata una bella esperienza, ci siamo conosciuti meglio, come dicevo prima, però gli operai non si sono avvicinati a questo presidio. Quindi quali sono le ragioni? Io su questo, francamente, mi sono interrogato, cioè continuo a interrogarmi, anche perché se no rischiamo di aver fatto solo una bella esperienza, però non abbiamo capito come mai i lavoratori non hanno capito il perché dovevano in qualche modo avvicinarsi al presidio, ma non dare una mano a noi, ma dare una mano a se stessi, nel senso che noi in qualche modo lottiamo, non è che lottiamo individualmente, lottiamo per la classe, quindi la classe, ma non solo la classe operaria della Fiat Mirafiori, cioè noi dovremmo lottare per una classe operaria, diciamo per difendere la classe operaria di tutto il mondo, certo che è un ragionamento, come dire, se vogliamo anche un po' difficile, nel senso da questo punto di vista, però io credo che noi dovremmo cercare di allargare gli orizzonti e vedere non soltanto il nostro orticello, ma cercare di capire che tanti operai in altri posti, non solo d'Italia, ma nel mondo, vivono le nostre condizioni di lavoro. Io credo che è questa l'analisi che dovremmo fare. Dopodiché io invito i compagni a fare una riflessione su questo e a venire qua e esprimere anche la propria opinione rispetto a questa mia critica, una mia critica che è ovviamente personale, però mi andava di fare. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie.